E' da tantissimo tempo che non compro più un gioco al Day One, o meglio su Nintendo Switch qualcosina al Day One l'ho comprato, ma comunque si parla di giochi che fondamentalmente arrivano al massimo a 60€, cifra che insomma non tutti sono disposti a spendere per un gioco al Day One, però nei casi di Zelda o un Mario lo spendono sempre volentieri. Qualche mese fa mi sono deciso a riacquistare dopo tantissimo tempo un gioco al Day One, un AAA di una console di generazione attuale, e l'ultimo che comprai era stato Elden Ring, quindi dall'uscita di Elden Ring altri giochi su console nuovi il giorno di uscita non ne ho più presi. Questo perché con il Game Pass non c'è stato il caso di insomma di comprare altro, fondamentalmente giocando comunque spesso volentieri sempre sui titoli per il canale, ho avuto meno tempo di comprare giochi nuovi che comunque non ne sentivo la necessità di avere subito, perché comunque non sapevo quando avrei potuto giocarli e quindi ho sempre preferito aspettare e comunque prenderli una volta che erano scesi di prezzo. Bene, oggi è il 22 marzo ed è il giorno di uscita di Dragon's Dogma 2, gioco che per chi segue il canale sa avrei voluto portarlo in diretta o comunque farci una serie o comunque farvi vedere come procedevano le mie avventure intanto e intanto. Dunque, mi è capitato di trovare un sito che comunque fa delle ottime proposte per quanto riguarda i preordini. Quindi, se tutto è andato per il verso giusto, qua dentro avremo Dragon's Dogma. Io non ho dubbi su questa cosa, però guardate ragazzi, lo sto spacchettando con voi. Il pacchetto è, sì, è un po', insomma, è un po' piccolino, è un po', però è tutto pluribollato. E ragazzi, abbiamo la nostra copia di Dragon's Dogma 2. Dragon's Dogma 2 che io ho pagato nuovo tre mesi fa, forse, adesso non mi ricordo più, L'ho pagato 54,90€, contando che questo qua è uno di quei titoli che Capcom, è uno dei primi titoli che Capcom ha messo a prezzo praticamente pieno sui 75-80€, non mi ricordo più. Io l'ho pagato 54,90€. Ok, sono comunque soldi, però abbiamo risparmiato quei 20-25€ che, so, buttali via. In realtà sul sito costava 59€, poi ho approfittato di un buono sconto, che non so per quale motivo avessi, però avevo un buono sconto di 5€ su Ebay e l'ho pagato 54,90€. Nuovo, nuovo, ok? Quindi a me nessuno ha dato dei soldi per fare pubblicità a questo sito, perché non ho 5.000 iscritti, quasi 6.000, non mi caga nessuno. Quindi io questa cosa qua la sto dicendo a voi, per voi, nel caso un giorno volesse prendere un gioco, il day one, o comunque nel periodo di uscita, e voleste risparmiare quei 20-25-30€. Attenzione perché loro cosa fanno? Appena viene comunque presentato un gioco, lo buttano subito in pre-order. Il pre-order come funziona da loro? Spezze Volentieri funziona che parte molto basso, esempio Wukong, partiva da 39,90€, poi man mano che ci si avvicina la data di uscita, iniziano a salire di quei 5-10€, ok? Io ho preso questo, questo è stato il primo titolo che ho preso da loro. A seguito ho preso Wukong, che era salito a 49,90€, ma comunque pagarlo già a 49,90€ non è male. E nel caso ho preso anche GTA 6, lo so, esce tra un anno, ma io mi sono portato avanti, e GTA 6 da loro l'ho pagato meno di questo. Meno, 52,90€. Ora, io lo so che volete sapere anche chi è il sito, chi sono i ragazzi che lo fanno, e questo lo sto dicendo perché? Perché spesso e volentieri, cioè la prima cosa che uno fa e commenta appena vede un loro prezzo è Ma arriva? State fregando la gente? Perché costa così poco? Ragazzi, è gente che vive di pre-order, e nel momento in cui tu fai il pre-order lo prendono già i soldi. Quindi, credo che... non credo, non lo so, non mi interessa come fanno. Sicuramente vanno avanti perché comunque riescono ad avere i soldi prima della data di uscita, e loro giocano su questo fatto qua. E fin qui non c'è nulla di male. Ora, vediamo un po'. Allora, vedete, io ho preso Wukong a 49,90€, GTA a 52,90€, E questo qua ha 59,90€, ma in realtà poi se andiamo a vedere i dettagli dell'ordine, io l'ho pagato... Ah, è qua sopra, scusate, 54,90€. Allora, andiamo direttamente sul loro sito. Come potete vedere, qui abbiamo i pre-ordini Sony, Microsoft, Nintendo, e hanno un sacco di altra roba. Sega, Toys to Life, hanno un sacco di altra roba. Se voi andate nei pre-ordini, avrete tutti i pre-ordini che hanno loro disponibili. E i prezzi sono questi. Ok? E penso che prossimamente andrò a prendere... Uiii... Penso che prossimamente andrò a prendere Paper Mario. Ovviamente... Ragazzi, Silentina, 49,99€. Ora, io adesso non è che voglio fare super pubblicità, quant'altro, però... Vi sto facendo vedere quello che effettivamente c'è. Donkey Kong, questo qua è già uscito, è rimasto nei pre-order, però sti cacchi... Hades 2, 39,90€... Quindi, io vi consiglio di fare un giro e secondo me qualcosina che vi può piacere, lo trovate sicuro, sicuro... Gamesandmovies.it Io credo di essere stato abbastanza chiaro su quello che vi sto dicendo. Se volete risparmiare dei soldi sul periodo di uscita di un gioco, andate qua e andate sul sicuro. Insomma, non credo che vi... Cioè, non credo. Non vi fregheranno, come potreste pensare, dai prezzi bassi. Ma anzi, vi daranno un buon motivo per tornare sul loro sito e fare nuovamente acquisti da loro. Detto questo, io credo che adesso andrò a spucciarmi questo e ci giocherò. Ah, ragazzi, una cosa fondamentale. Io ho visto gente, perché poi contando tutti gli amici che ho su Facebook, ogni tanto mi capita di vedere qualcuno che gioca ad un gioco, che magari ha già un gioco che gli è arrivato il giorno prima dell'uscita. E spesso volentieri c'è scritto che sono stati loro. La cosa figa di Games & Movies è proprio questa. Spediscono con Amazon Shipping. Quindi, spedendo con Amazon, siete sicuri. Cioè, non può capitare che vi arrivi magari chissà quando. L'unica cosa... Cioè, non chissà quando. Avete una tracciabilità ben definita con Amazon Shipping. Quindi, state sicuri che nel giorno in cui vi dicono che arriva, arriva. A me la data di arrivo me la davano domani. Io stanotte ho controllato, hanno spedito ieri sera, verso le 9 avevano in carico il gioco. Questa mattina alle 4 era già a Grugliasco Torino e questa mattina mi è arrivato. Quindi è arrivato nel giorno di uscita, quando in realtà mi avevano subito detto che sarebbe arrivato domani. Altra cosa fondamentale che non vi ho fatto vedere è che hanno 97,5% di feedback positivi e 44.000 oggetti venduti. Quindi non sono gli ultimi degli ultimi. Loro garantiscono il giorno di uscita o il giorno dopo. Dipende da quanto siete lontani da loro. Io sono a 4 ore di macchina da loro. Hanno fatto abbastanza in fretta a mandare tutto quanto. È ovvio che se a loro il gioco arriva il giorno di uscita e devono spedirlo, purtroppo. Non potrebbe mai arrivarvi il giorno di uscita. Carderà di 1-2 giorni. Però ragazzi, risparmiare quei 20-30 euro, aspettare un giorno in più, ci fa. Secondo me ci fa, nel senso che comunque stringi un attimo i denti e hai aspettato magari un anno per avere quel gioco e aspetti ancora un giorno. Però hai risparmiato quei bei soldini. Ultima cosa che, insomma, e adesso parlando a me mi vengono in mente le cose pezzo per pezzo. Quando andrete a cercare Games & Movies, capiterà poi che su Facebook arriveranno le sponsorizzazioni di quello che stanno vendendo. O comunque di quello che hanno in preordine. Capiterà spesso e volentieri, come ad esempio io continuo a vedere Wukong a 39,99. Che ovviamente adesso non è più a 39,99 ma si è alzata la sticella di quei 10 euro. Ovviamente vedrete a 39,99 perché quando hanno sponsorizzato quel tipo di vendita, il prezzo è partito da 39,99. Penso di aver detto tutto. Io tutto quello che posso dirvi ve l'ho detto per quanto riguarda la compravendita su eBay. Io ho avuto il piacere di dover comprare di lì. Non sono andato a farmi un giro sul sito. Secondo me sul sito ci saranno tante altre cose che possono stuzzicare il vostro portafoglio. Detto questo, Games & Movies potrebbe essere una garanzia? Sì, fino a ieri potevo pensare che poteva essere una garanzia. Oggi ne sono sicuro ed è una certezza. Risparmiate sui giochi nuovi. Spero di esservi stato d'aiuto. Spero che apprezzate questi tipi di video. Io ho parlato per 15 minuti ininterrottamente e penso di avervi fracassato anche le palle. Ciao, al prossimo video!